Ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Quest'oggi farò l'unboxing dell'Xbox One Come avevo promesso nel precedente unboxing di Advanced Warfare Ehm... ho mantenuto la parola E... spero che vi piaccia Spero che sia figo Spero che sia bello Quindi... Basta farli stupiti e apriamo il pacco Allora... tagliamo Allora... questo... questo Xbox Contiene Assassin's Creed Unity Si vede dalla scatola Poi Assassin's Creed Black Flag I Reinman Legends Quindi... cioè... tre giochi Cioè figo Allora... questa è la scatola dell'Xbox One Bella Fresca Tornata di bestia Aspetta usiamo Per aumentare Devevi tagliare Un po' No... di tutto Quindi... Apriamo Comunque questa è la mia cazzosissima cameretta Fighissima Il mio studio Qua non è la cameretta È la taverna Ok... la mia cameretta è veramente piccola Quindi... Allora... Da qua si avre Oh my god... oh my god... Tiriamo subito fuori Learn... Non ci fare... Oh... Xbox... Per adesso mettiamolo giù Poi... Tiriamo via tutto Non so cosa fare E poi... Allora... Non so da dove si possa aprire Ecco... Oh... Allora... Qua abbiamo le solite istruzioni Istruzioni Qua dei codici Dei codici ragazzi Dei codici Che non vi faccio vedere Poi qua... Ah... ecco Qua i codici per Assassin's Creed Unity E poi... Codice ID Ah... Ah... Io ce li ho questi codici... Voi no... Va bene... Non facciamo di stupido Allora... Andiamo... Allora... Allora... Questo è il caricatore Davvero davvero figo E' gigantesco sto caricatore Questo caricatore Questo caricatore è davvero... Il PS4 ce l'ha già incorporato Invece... L'Xbox no Però dettaglio Allora... E' lucida Così almeno rimangono le evitate Poi... Poi... Capeglio... Strono Il caricatore sembra abbastanza bello No... E' bellissimo caro Bellissimo Ma pure sul caricatore c'è Il simbolo della Microsoft Allora... Questo lo mettiamo giù Poi... 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 Altri cavi... Sempre... Del caricabatterie... Poi... Cavo... H2MI... Tirarlo via... Poi... 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 I'istituzione... Allora... Passiamo le cose importanti Cuffie della... Xbox... One... Ah... Fighissimo... Davvero... Davvero... Allora, questo è il setacal controller che vi farò vedere tra poco Cuffie migliori della 360 di sicuro E passiamo al controller Allora E la la Pure le batterie ragazzi Le batterie C'è qualcosa di fantastico Le batterie Allora, le batterie Ecco il joystick ragazzi Dicono che sia scomodo Ma lui per me non è tanto scomodo Poi qua dove si mette le batterie Le batterie Fichissimo Ok Ok, è davvero scomodo poter mettere le batterie Le metto dopo Quindi passiamo al pezzo forte Eccolo qua Mettiamo via questo Spettacolo Mettiamo via tutte queste cose Allora Togliamo la carta da culo Scartiamo 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 Oh 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 my god Eccola qua Bellissima Ecco Bellissima Qua Davvero bella Qua Dietro tutte le prese Per L'alimentatore Cavo audio HDMI HDMI USB Due USB Questo Credo che sia per il Kinect Però non Fa niente Non l'ho preso Questo Non lo so Non lo so ragazzi E poi questo E' per Il cavo Per la Wi-Fi Allora Spero che questo Video vi sia piaciuto C'è anche la mia faccia C'è Spero che vi sia piaciuto Lasciate Un like Un like Solo uno Non più di uno Commento Per dire Cosa ne pensate Se vi piace L'Xbox One Oppure la PS4 Cosa avete scelto E Che giochi Anche da prendere Io adesso Assassin's Creed Unity E Call of Duty E Farò anche dei video Di sicuro E Spero che vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale E Bella La Allora Bye 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti